Il grande cuore della lirica, questo il titolo della serata in favore dello sportello sociale della Croce Rossa Aretina che supporta le famiglie bisognose del nostro territorio. L'evento si è svolto in un gremito Teatro Petrarca di Arezzo. Il recital è stato portato in scena dal baritono Mario Cassi, un arettino che per la prima volta ha cantato nella sua Arezzo, accompagnato al piano dal maestro Ulla Casalini. Il grande cuore della storia